Ehm, salve signore, voleva vedermi... Ehi, Death Knight! Prego, mettiti comodo. Come sai, stiamo passando un brutto momento nei dungeon. Abbiamo tanti campioni di livello basso, proprio come te. Temo che dovrò sacrificarti. Cosa? Ma che diavolo? E qui a scarti in pace. Mi prende in giro, sono già a livello 2 e... Hmm, prossimo! Ehm, prossimo!